Siamo arrivati! Yo yo! Benvenuti in un altro video! Oggi siamo in compagnia di Andrea e del mitico Bruce. Oggi siamo diretti a Casera, Valina e Alte. Ci aspettano 800 metri di dislivello. Partiremo dal lago di Cassellva e andremo su per il sentiero 968. Let's go! Mi suona familiare. Direzione Casera, Valina. Avanti su! Tutto bagnoticcio. 2 ore 10. Siamo arrivati Bruce! Eccoci arrivati a Casera, Valina. Metri 1328. Entriamo. Ci sarebbero le luci, ma sono scariche, mi sa. Uuuuuh! Bello, 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 bello! Very nice! E che viene a vedere? Inception! E Andrea, devi spiegarci una cosa di oggi perché oltre ai guanti delle mie mani abbiamo dimenticato una cosa importantissima. La testa. Facciamo gli spazzle, cambiamo la ricetta, facciamo salmone e pomodorini così... Tutti contenti? Andiamo al supermercato, prendiamo il salmone, prendiamo i pomodorini, usciamo... E gli spazzle? La mannaia! La mannaia e spazzle! Quindi ci auguriamo che cosa adesso? Adesso apriamo la dispensa, speriamo che ci sia un po' di pasta così riusciamo a fare comunque la pasta con il salmone e i pomodorini. Quindi... Non c'è un cazzo di qua! Non c'è niente! Bene! È una latina di birra, ma di pasta... Beh dai! Mi sembra che non ce ne sia! Guarda cosa hai lasciato qua! Questo però c'è! Risotto, funghi porcine... Zafferano, salmone e pomodorini! Sai, vada a figare ancora! Ma vari serramenti, sono nuovi! Vivac ha messo veramente alla grande! Come costruzione... Ho sentito che l'avevano ricostruito dei ragazzi di Maniago e Frisanko E l'ho sistemato tutto e tanta tanta roba! Ma la cosa che mi ha stupito appena siamo arrivati... Che è mega galattico, cioè ti vedi veramente... Andrea che salta! Parte superiore... Bello! Fatto in modo anche da alzare e da pulire! Sono un po' slozzini sotto! Bello! Strano! E il bello anche... Anche si vede sotto, quindi... Fa venire super bene il caldo! Super! Uh! Bru-bru-bru-brux! Comunque sto giro è una stufetta altro che economica qua! Mamma mia! È bellissima! C'è il forno con i gradi anche! Anche il meccanismo lì per girare e far cadere la... C'è il forno! Let's go! 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 Questo è il locale riservato! Senza tutta la bufera di neve tipo! Ascia multiuso! Sì, vediamo se non riusciamo a non fare mananne Sì, un po' incastretto qua No, sì, in berletta Al caldo, al sicuro Sì, sia Ah, merda Cazzo Scotta, scotta Occhio Mard Oh, lei non è male Che roba è che brucia i calzetti, zio Zio Nice Questa Bistecchelle Very nice Pecorino Dovamo guardarci anche più vicini Mi mettiamo un attimo a scaldare Siamo pronti Olè Bene, direi che possiamo cenare Ti posso dirti che vorrei sentirmi pronto Penso Quella Quella Che Tras Quava Pagliare Di Guardare Sì Questa posto hey Sì, via! Grazie a tutti!